5 errori comuni quindi molto probabilmente o li hai fatti anche tu o li stai facendo quando vai a creare una campagna con facebook quindi una facebook ad mettiti comodo perché sarà un video super interessante io sono ale lorenzi ti do un caloroso benvenuto proprio qui all'interno di questo canale e se argomenti come le facebook ad instagram ad youtube ad media buying marketing business online ti piacciono iscriviti è veramente un'operazione che a te richiede un secondo ma per me è fondamentale ho deciso di registrare questo video perché tantissimi di voi mi iscrivono su instagram tra l'altro se non mi segui seguimi perché pubblico un sacco di contenuti di estremo valore e ti racconto anche la mia giornata quindi quello che faccio a livello di campagne pubblicitarie e non ecco proprio lì su instagram tantissime persone mi chiedono ale ma ho sbagliato a fare questo ale ma secondo te questo è giusto così sono andato a stilare 5 errori comunissimi che si commettono quando andiamo a creare le nostre campagne su facebook quindi le facebook ad errore numero 1 ma per favore guarda lì fino in fondo perché non devi assolutamente sottovalutarli errore numero 1 non studiare il buyer persona ecco qua casca sempre l'asino per quanto io continui a dire in qualsiasi contenuto che il buyer persona è fondamentale ancora tantissime persone lo ignorano oppure ne fanno una versione estremamente superficiale è fondamentale invece concentrarsi tantissimo sul buyer persona per andare a capire effettivamente chi è il nostro potenziale cliente quindi chi è che cosa fa quali film guarda immagina di dover vendere magari un prodotto per una persona che legge tantissimo tu non lo sai non farai una campagna pubblicitaria che o lo raggiunge oppure effettivamente non lo coinvolge e il picco di attenzione delle persone oggigiorno è sempre più basso per cui nel momento stesso in cui la tua campagna pubblicitaria raggiunge quella persona ma non la cattura hai perso un click perdere un click significa perdere un'opportunità quindi è fondamentale fare un'analisi accurata esattamente come se fosse un identikit preciso mirato nel dettaglio del tuo buyer persona del tuo potenziale cliente o del prospect del tuo cliente perché magari gestisci le ads e il marketing per un tuo cliente soprattutto un'operazione in cui non bisogna avere fretta perché spesso vedo persone che cercano di creare il buyer persona in tre istanti in pochi istanti no ci vuole tempo creare il buyer persona è un'operazione che richiede tempo e quindi non avere paura di oddio devo starci non lo so mezz'ora piuttosto che ho fretta lo faccio in 5 minuti no dedicaci il tempo che serve perché il buyer persona rappresenta le fondamenta dell'attuazione di marketing delle tue campagne pubblicitarie e non puoi assolutamente prenderla alla leggera secondo errore che vedo commettere tantissimo è quello di non testare abbastanza ecco anche qui spesso le persone mi arrivano in consulenza o mi scrivono appunto su instagram e mi dicono Ale sai che c'è avevo questa campagna performava da paura fantastica eccetera eccetera ha smesso di performare io non so più che fare ecco questa è una situazione super tipica magari è successa anche a te è fondamentale invece testare tantissime variabili proprio perché non siamo tutti uguali magari quello che cattura a me a te annoia a noi estremamente e quindi per quanto la campagna pubblicitaria possa essere fatta in modo eccesso in modo perfetto finirà per tediarti e quindi tu non la guarderai mentre se noi testiamo continuamente cose nuove ci mettiamo nelle condizioni di avere nuovi copy nuove creative nuovi angoli di attacco nuovi target magari sempre affini al nostro buyer persona ma un po' più lontani un po' più vicini o pubblici simili ad esempio o pubblici personalizzati ecco abbiamo in mano delle nuove opportunità per raggiungere potenziali persone potenziali clienti e avere altri dati e qui mi allaccio al punto numero tre quando fai delle campagne pubblicitarie in generale ma visto che stiamo parlando di facebook ads fiondiamoci nelle facebook ads è fondamentale tenere sempre in qualsiasi momento anche quando le cose vanno male intendo che stai comprando dei dati tu stai letteralmente facendo uno scambio stai dando un budget in mano al grandissimo mitico zackenberg ok per avere indietro dei dati quando una tua campagna pubblicitaria performa bene o quando performa male ti sta dando dei dati ti sta dicendo se un contenuto piace se un contenuto non piace ti sta dicendo quanto costa un risultato quanto costa un impression quante persone riesci a raggiungere e un'infinità di altri dati che sono estremamente estremamente preziosi quindi è fondamentale tenere sempre a mente che si stai facendo delle campagne pubblicitarie ma stai comprando dei dati e quei dati vanno interpretati oggi giorno abbiamo veramente la possibilità di avere tantissimi dati dati su pubblici freddi dati su pubblici simili dando una matrice a facebook riusciamo a trovare altre persone simili abbiamo la possibilità di avere dei dati personalizzati quindi chi ci segue chi interagisce con noi abbiamo la possibilità di segmentare quei dati di scalarli di dare la possibilità all'intelligenza artificiale all'interno delle facebook ad argomento di cui ho parlato qui sul canale per cui se ti piace iscriviti a questo canale veramente a te richiede un istante invece per me è un'operazione importantissima abbiamo la possibilità di dare in mano all'intelligenza artificiale a livello di algoritmo affinché posso trovare altre persone simili quindi oggi giorno abbiamo la possibilità di avere tantissimi tantissimi dati e sfruttiamoli sfruttiamoli perché stiamo facendo comunque un investimento in termini di campagne pubblicitarie e sarebbe anche un po se ci pensi ingenuo non andarle a sfruttare e lasciarle linee a dimenticatoio errore comunissimo ma numero 4 che vado a riscontrare tantissime volte è giocare in modo troppo emotivo con il budget spesso le persone mi dicono eh cavolo qua non stava andando spento qua invece ho scalato ma i costi sono aumentati ma la qualità è bassa oppure ho scalato ma sono aumentati solo i costi non è cambiata la quantità non è cambiato il risultato ok piano partiamo sempre da un presupposto l'emotività come dico spesso nei miei video va lasciata alla porta qui stiamo parlando appunto di dati come abbiamo detto all'inizio e bisogna sempre tenere in considerazione che abbiamo a che fare con un algoritmo un algoritmo che ha i suoi tempi nel capire che cosa funziona e che cosa non funziona dobbiamo giocare rispettare i tempi di questo algoritmo se noi iniziamo a dirgli scala vai macina risultati corri eccetera eccetera ma lui non è ancora pronto o comunque gli diamo magari un budget in modo molto veloce ho visto credimi persone che hanno lanciato immediatamente una campagna pubblicitaria e la scalavano ogni 10 minuti quando ancora non avevano dati perché la campagna pubblicitaria era nuova magari era un test mai provato prima non c'era nessun benchmark non c'era nessun risultato così come ho visto persone scalare le proprie campagne pubblicitarie semplicemente aumentando e tra l'altro pure male il budget delle proprie campagne pubblicitarie facendosi veramente molto male certo tutti noi facciamo delle campagne pubblicitarie su facebook su youtube su google per ottenere dei risultati incredibili ma ricordati sempre che hai a che fare con un algoritmo che oggigiorno ha anche la sua intelligenza artificiale che è lì per aiutarti perché ricordati che comunque perché se ne parli bene o se ne parli male di facebook è comunque un business e quindi ha tutti gli interessi a fare in modo che gli investitori media buyer gli advertiser continuino a spendere budget sulla piattaforma di sicuro zakenberg e tutto l'ambaradan non vuole che tu scappi ok per cui gioca le regole dell'algoritmo lo so che è anche una questione di esperienza di mindset eccetera eccetera ma proprio qui sul canale trovi un'infinità di video che ti possono aiutare in ciò quinto errore siamo arrivati alla fine di questo video anche questo è un errore estremamente estremamente comune non diversificare il più possibile sulla base del buyer persona mi spiego meglio ho tenuto volutamente alla fine questo errore perché era fondamentale prima spiegare tutto il resto quando andiamo a creare il nostro buyer persona innanzitutto non crearne solamente uno perché come abbiamo detto all'inizio quello che può interessare a me a te magari noia e viceversa magari sì siamo interessati allo stesso prodotto ai palloni da basket ma ci interessano due cose completamente diverse quindi prima cosa lavora su più buyer persona certo non staccarti troppo dal prospect ma cerca di trovare le differenze e poi quando ti muovi a livello di campagne pubblicitarie cerca di creare delle campagne pubblicitarie pensate per più pubblici magari per fasce di età diverse per posizionamento diverso per finestre di attribuzione diverse per zona geografica per genere abbiamo veramente tantissime possibilità di segmentazione oggi giorno per testare per divertirci per avere dei dati ancora più puliti ed è fondamentale farlo avere semplicemente un buyer persona avviare una campagna un po così alla Carlona che va bene a tutti eccetera eccetera sì magari inizialmente ti produce dei risultati ma poi alla fine finisce per schiantarsi e finisce per non produrti assolutamente più nessun risultato questi sono 5 errori super comuni che ho riscontrato tantissime tantissime volte nei DM su Instagram nelle consulenze con le persone che arrivano appunto in consulenza da me e ho deciso di registrare questo video per rispondere a tutti una volta per tutte ma ovviamente ci sono altri errori e ovviamente ci sono errori anche ancora più profondi e se hai piacere te ne posso parlare in un altro video come questo fammelo sapere con un like o con un commento e dalle Lorenzi è tutto ciao